Musica Protesta a formazione dai prossimi giorni un vero e proprio assedio alle istituzioni Sparatoria stamattina al mercato orionale di Viale Michelangelo, tre feriti Ieri pomeriggio ad Aragona i funerali di Laura e Carmelo Mulone Buonasera e benvenuti all'edizione di Media News di mercoledì 1 ottobre In apertura ci occupiamo della protesta della formazione Dei prossimi giorni un vero e proprio assedio dei lavoratori e di tutti i rappresentanti sindacali Al di là delle sigle, vediamo Manifestazione di protesta dei lavoratori della formazione professionale Alcuni manifestanti portano delle croci, crocetta, dimettiti, lavoro e dignità Lotta dura senza paura, gli slogan più ricorrenti Con i lavoratori anche i deputati regionali di Forza Italia, Falcone e Fieguccia Una protesta a oltranza annunciano i sindacati Un vero e proprio assedio delle istituzioni responsabili del massacro sociale Dei lavoratori del settore per rivendicare lo sblocco delle retribuzioni e dell'occupazione Dice Giovanni Migliore della Cisle Scuola dopo l'incontro con i rappresentanti e la UIL Dei Cobas e i promotori del corteo partito da Piazza Marina A tutte le organizzazioni sindacali aggiunge Abbiamo chiesto di creare un movimento unico per avviare una mobilitazione di tutti gli operatori Andando oltre le sigle e le diversità Non ci fermeremo fino a quando non avremo risposte stavolta certe e immediate Con atti concreti e pratici Sarà un vero e proprio assedio Migliore conclude, non basta una semplice e unica manifestazione A questo punto è necessario unirci per scuotere i due palazzi Presidenza e Parlamento regionale Uniti si vince La UIL Sicilia vuole contribuire alla formazione di un percorso di lotta unitario Per chiedere al governo Crocetta provvedimenti concreti e immediati Sulle retribuzioni e sul futuro dei lavoratori della formazione professionale E di quelli licenziati che attendono ancora una ricollocazione Lo ha detto il segretario regionale Giuseppe Raimondi In seguito all'incontro tenutosi oggi tra i promotori della marcia della formazione E Cisle Scuola e Cobas Raimondi ha aggiunto Il confronto è necessario e indispensabile Ciascuno deve poter dare il proprio contributo Utile per ricompattare la categoria Esistono a nostro parere i presupposti per un cammino unitario Fino al raggiungimento degli obiettivi stabiliti Sì dell'avvocatura dello Stato Ai tirocini del piano giovani Anche quelli del contestato Click Day del 5 agosto Vediamo I tirocini del piano giovani Sicilia finché assegnati sono tutti validi Anche quelli del contestato Click Day del 5 agosto Verranno esclusi solo gli incroci fra domande d'offerta Per i quali gli uffici hanno riscontrato Carenza di requisiti da parte dell'azienda o del tirocinante Questo è il parere dell'avvocatura dello Stato Che cancella le polemiche con un colpo di spugna E rimette in corso i giovani Che avevano visto assumare un tirocino assegnato Dopo il contestato Click Day del 5 agosto Anche quei tirocini secondo l'avvocatura sono validi e vanno svolti La regione sta adesso rifacendo i conti per capire quanti tirocini può mettere in palio Nella Click Week che si sta programmando da una prima analisi Sembra che i tirocini certamente assegnati siano 600 Risalento il primo Click Day Quello del 14 luglio Mentre per il 5 agosto bisognerà fare una valutazione più approfondita Anche se sembra che i tirocini da assegnare per quella selezione siano circa 700 Alla luce di questi nuovi conti i tirocini a concorso dovrebbero essere fra i 700 e 900 In base alla disponibilità economica del piano giovani Decurtato delle spese organizzative per gli affidamenti Con un'interrogazione al presidente della regione All'assessore per le autonomie locali e la funzione pubblica E all'assessore per la salute Sottoscritta anche dai colleghi di partito Il parlamentare regionale di NCD Piero Alongi Ha chiesto il ripristino dei servizi destinati ai disabili E derogati dall'ex province regionali La mancata erogazione di tali servizi grava pesantemente sulle famiglie Che sono già costrette a sopportare pesi economici notevoli Per assistere i congiunti diversamente abili Inoltre sotto il profilo dell'occupazione Solo per quanto riguarda Palermo Oltre 450 lavoratori attendono di riprendere il proprio lavoro Paura stamattina nel mercato rionale di Viale Michelangelo Tra i quartieri Uditore e CEP Tre persone sono rimaste ferite in una sparatoria in via Paladini Proprio la strada principale dedicata al mercato del mercoledì Non è chiaro ancora se la sparatoria sia frutto di una lite finita male O di una vera e propria spedizione punitiva Maurizio Quartararo, 36 anni, è il ferito più grave È stato colpito al petto e al volto Ed è stato ricoverato all'ospedale di Villa Sofia Il fratello Umberto, 30 anni, è stato ferito a un polmone Ma non sarebbe in pericolo di vita Il terzo ferito è una donna di 70 anni Maria Maniscalco, colpita alla gamba destra Indagini sono in corso Ieri pomeriggio ad Aragona Si sono svolti i funerali di Laura e Carmelo Mulone I fratellini morti sabato scorso Per l'esplosione di un vulcanello Nella riserva delle Macalube In provincia di Agrigento Vediamo Applausi e decine di palloncini azzurri, rose e bianchi Così i familiari, gli amici e i compagni di scuola Hanno salutato le due piccole bare bianche Di Laura e Carmelo Mulone I fratellini di 7 e 9 anni Morti sabato scorso Per l'esplosione di un vulcanello Nella riserva delle Macalube In provincia di Agrigento La chiesa Maria di Pompeia d'Aragona Era gremita Centinaia le persone presenti Commosse strette a mamma Giovanni e papà Rosario Straziati dal dolore Non vedremo più Laura e Carmelo a scuola Ha detto il parroco Né giocare con gli altri bambini Ma da oggi sono angeli La cui luce brillerà per sempre In chiesa a portare il proprio sostegno Alla famiglia Mulone C'era anche il comandante generale dei carabinieri Leonardo Gallitelli Che al termine del funerale Ha stretto i genitori dei bambini Abbracciando Rosario Appuntato in servizio a Ioppolo Giancaxio Giallitelli Lasciando la chiesa Ha preferito non commentare la tragedia Anche perché non ci sono davvero parole Fuori dalla chiesa La mamma dei bambini Ha invocato un'ultima volta i suoi figli Ripetendone i nomi Carmelo Ha detto rivolgendosi al figlio C'è la maestra Tu ne parlavi sempre La maestra è qui Ci sono tutti Poi le due bare bianche Hanno lasciato la chiesa Si è riunito ieri il Consiglio Comunale di Bagheria Tra le decisioni più importanti L'aumento del 5% della tassa sui rifiuti Teleone trasmetterà questa sera e domani sera Alle 21.15 La registrazione integrale dei lavori Il Consiglio Comunale di Bagheria Tornato a riunirsi ieri Ha approvato l'aumento del 5% della Tari La tassa sui rifiuti solidi urbani La delibera è stata approvata dai 18 consiglieri comunali del Movimento 5 Stelle Con il voto contrario dei consiglieri dell'opposizione Fatta eccezione per il PD e Paolo Amoroso Che sono usciti dall'aula L'aumento della liquota Tari del 5% Ha detto il capogruppo del Movimento 5 Stelle Maria Laura Maggiore È un obbligo di legge dovuto alla necessità Di coprire integralmente il costo del servizio smaltimento dei rifiuti L'aumento del costo del servizio è stato determinato Dai costi di conferimento in discarica E dai costi del carburante Se questi atti non fossero stati compiuti Ha continuato Maria Laura Maggiore Ci troveremo oggi ad una proposta di aumento sicuramente superiore Critiche però le opposizioni Filippo Tripoli ha sottolineato Che non può pagare sempre la città Occorre un percorso comune per risolvere il problema Non si può sempre e soltanto attaccare gli altri E ieri a Bagheria Animi agitati nel corso del Consiglio Comunale Convocato in seduta straordinaria ed urgente Ascoltiamo Maurizio Logalbo Capogruppo di Forza Italia Dopo il Consiglio che abbiamo assistito ieri Dove un sindaco come Patrizio Cinque Che perde lucidità Perde consapevolezza dell'istituzione che rappresenta E dice delle affermazioni Del tutto inesuali Abbiamo capito che con questo sindaco Sarà complicato e sarà difficile trovare una mediazione Sarà quasi impossibile Dalle parole che ha detto anche ieri Cercare un ragionamento comune Il primo punto è l'aumento della tari del 5% Al quale noi abbiamo votato decisamente no Perché innanzitutto noi di nuovo le mani nelle tasche dei cittadini Non le vogliamo mettere E questo è stato il nostro punto focale di ieri Abbiamo anche detto al sindaco Cinque Che lui in campagna elettorale aveva detto tante bellissime altre parole Aveva illuso i cittadini che aveva studiato tante strade percorribile per non aumentare di nuovo le tasse E invece si ritrova a fare lo stesso compitino che ha fatto il sindaco Lomeo non meno di un anno fa La seconda al delibera che è a quanto pure importante Parlava dei servizi indispensabili per questo ente in distesso finanziario I servizi indispensabili per questo ente dovrebbero essere intanto valutati da una commissione Valutati dalla politica, valutati dal sindaco stesso E fare una cernita dei servizi più importanti Invece ieri cosa ci siamo trovati a ragionare? Su un elenco di tutti i servizi indispensabili del comune Per il sindaco Cinque Tutti i servizi del comune sono indispensabili La cosa assurda è che tra questi tutti i servizi indispensabili L'unica cosa che mancava era il servizio della gestione dei rifiuti E la raccolta smaltimento dei rifiuti Quindi lui ha ritenuto che tutti i servizi del comune sono indispensabili E tranne questo mi auguro che è stata una dimenticanza Però siamo arrivati veramente alle comiche Minacce al parroco della chiesa delle anime sante a Bagheria Il motivo sarebbe lo spostamento della statua della Madonna dell'Immacolata All'interno della chiesa e l'azzeramento dei portatori della statua stessa Ascoltiamo Don Massimiliano Purpura La decisione nasce alla luce del contesto dell'anno mariano Che stiamo celebrando e che è in corso E che si concluderà nella solennità dell'Immacolata di quest'anno E allora volendo ritornare anche alle radici All'identità storica anche di questa chiesa Dedicata e conosciuta appunto come le anime sante Dove si conserva una tela dell'Ottocento Che prima appunto era collocata all'altare maggiore Che poi è stata tolta per fare posto alla nicchia della Madonna Dove già di per sé la Madonna aveva una sua cappella collaterale Originariamente c'era una tela dell'Ottocento Certo c'era e c'è tuttora Infatti è in restauro da parte della Curia Perché è un'opera molto importante Come lo è anche la statua dell'Immacolata Ligna del Settecento E quello che forse magari a volte non si vuole capire Che queste opere d'arte devono essere custodite e conservate Per essere anche consegnate alle generazioni future Pertanto la statua dell'Immacolata non può più subire Maneggiamenti, spostamenti e quant'altro Quindi con persone competenti Abbiamo deciso di collocare la Madonna sulla vara Onde evitare questo sale, questo scendere Quindi custodirla e collocarla all'interno di una nicchia Dignitosa e più vicina alla gente Dove c'è anche una cancellata di protezione e quant'altro Quindi non è un mettere la Madonna lungi da me Né fuori dalla Chiesa Però dobbiamo molto molto stare attenti In rapporto all'immagine, alla statua, alle statua Non possiamo fermarci all'immagine, all'estate Altrimenti caderemo nella idolatria Si pente il boss di Bagheria Antonino Zarcone Adesso trema tutta la cosa nostra palermitana Intendo collaborare con la giustizia Ha detto, ho già fatto dichiarazioni che accusano me stesso e gli altri Vediamo Il boss della mafia del mandamento di Bagheria Antonino Zarcone Ha deciso di pentirsi Zarcone l'anno scorso venne condannato a 12 anni di carcere Per considerato il capo del clan bagherese Dopo che era stato arrestato in un'operazione dei carabinieri Adesso rischia altri 14 anni di carcere Nel processo Argo che è alle battute finali Proprio durante il dibattimento di questo processo Zarcone ha chiesto di fare delle dichiarazioni spontanee Durante le quali ha rivelato di aver iniziato a collaborare con la giustizia Un processo nel quale Zarcone è imputato con Salvatore Lauricella Figlio del mafioso Antonino detto lo Scintillone Che è arrivato alla ribalta mediatica per la sua amicizia Con l'ex capitano del Palermo, Fabrizio Miccoli Intanto un altro pentito, Gaspera Spatuzza Si accusa di 40 omicidi e chiede perdono alla città Alle vittime e ai loro familiari Lo ha detto nel corso dell'udienza a Milano Del processo a carico di Marcello Tutino Il presunto basista della strage di via Palestro Compiuta da Cosa Nostra il 27 luglio 1993 Musica nasce a Palermo Il primo Palermo Jazz Club Il locale ricavato dalle cantine di un palazzo ottocentesco In via Quintinosella Un luogo privilegiato per gli appassionati di jazz Abbiamo incontrato il direttore artistico Alessandra Mirabella Il Palermo Jazz Club nasce dal desiderio Di voler consegnare alla città di Palermo Un luogo dove fare jazz, fare musica Pochi sanno che in realtà il jazz nasce anche in Sicilia Il primo musicista nella storia che ha inciso un disco In America fu proprio un siciliano E allora avremo in cartellone tanti artisti Artisti siciliani, artisti italiani, artisti stranieri Il nostro sarà un appuntamento fisso ogni giovedì sera Lo stesso concerto verrà eseguito due volte in due set Avremo un appuntamento alle 21.15 e un altro alle 22.30 Alcuni nomi in cartellone Franco Cerri, Fabrizio Bosso, Avergirotto Dino Rubino, Giovanni Mazzarino, Flora Faia, Jay Garrison, Mimmo Cafiero E inauguriamo il 2 ottobre con Enrico Rava e il suo Sicilian Project Cioè domani Prima di chiudere ricordiamo il luogo e cosa bisogna fare per acquistare biglietti Allora i biglietti sono acquistabili sul sito www.palermogesclub.it Oppure in via Quintino Sella da Quintino È prevista anche una campagna abbonamenti Ci sono tre tipologie di abbonamento L'abbonamento Wine con posto numerato che ha un costo di 350 euro L'abbonamento Beer sempre con posto numerato che ha un costo di 300 euro E l'abbonamento senza consumazione che costa invece 200 euro Si possono anche comunque acquistare biglietti singoli L'iniziativa Quello che non ti aspetti Che il Teatro Biondo di Palermo ha lanciato Per coinvolgere il pubblico nella propria campagna promozionale va avanti Il teatro girerà un breve spot con la partecipazione di tre Tra i più affermati attori palermitani Si tratta di Vincenzo Ferrera, Elisa Parrinello e Salvo Piparo Il video prevede tra i protagonisti anche il pubblico del Teatro Biondo Chiunque volesse partecipare può presentarsi in teatro domani alle ore 14.30 Con un look da prima teatrale Fino ad esaurimento dei posti saranno accolti tutti In cambio della collaborazione saranno distribuiti dei voucher Per riduzioni sui biglietti di ingresso in teatro Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e appuntamento alle prossime edizioni Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti